Avete problemi a sentire distintamente i suoni che vi circondano? Con Forte e Chiaro, l'amplificatore acustico, potrete riascoltare chiaramente i suoni della natura intorno a voi. La voce di un amico che vi chiama da lontano, le parole dei vostri amici al ristorante che prima non capivate. Non dovrete più alzare il volume del televisore perché non sentite bene le parole. L'amplificatore acustico Forte e Chiaro è facile da usare. Dopo aver inserito la batteria, scegliete l'auricolare della vostra misura. Poi regolate il volume e indossatelo inserendo l'auricolare nel meato uditivo. Grazie alla sua forma ergonomica si adatta alla dimensione del vostro orecchio con facilità. Sarà bello risentire con chiarezza le voci dei vostri cari. Il campanello di casa quando siete in giardino non perderete di vista i vostri bambini al parco. I suoni saranno nuovamente chiari e distinti. Un aiuto semplice e a costi ridotti. Chiamate adesso. Oggi l'amplificatore acustico Forte e Chiaro lo riceverete nella sua elegante e pratica confezione completo di tutti gli accessori. Tre insert auricolari per adattarlo alle vostre caratteristiche fisiche. Due batterie per il funzionamento di Forte e Chiaro. Non sentire bene è spesso la fine delle vostre relazioni. Chiamate adesso. Ricominciate a sentire bene perché con Forte e Chiaro l'amplificatore acustico è tutta un'altra vita. Seguire i vostri programmi preferiti senza alzare sempre di più il volume del televisore e disturbando chi vi sta vicino oggi è una realtà e si chiama Forte e Chiaro l'amplificatore acustico che fa sentire bene. Sì, perché sentire bene vi fa stare bene. Sentirete bene le parole. Sentirete bene la musica. E potrete parlare con chi vi sta vicino senza difficoltà perché finalmente sentirete bene. Spesso non sentire è causa di isolamento e non capire quello che ci sta intorno porta spesso a non frequentare più gli amici. Forte e Chiaro con la sua tecnologia e la sua semplicità vi restituisce il piacere di conversare, di gioire della musica, delle risate dei vostri bambini. Sentire meglio significa sentirsi meglio. Mi ha cambiato la vita. Discreto e pratico. Sono soddisfatto. Un apparecchio facile da usare con istruzioni chiare e in italiano che ha un vantaggio in più. Seguite attentamente le indicazioni e non vi separerete più dal vostro amplificatore acustico Forte e Chiaro perché tornerete a sentirvi bene, sentendo bene. Chiamate adesso. Oggi l'amplificatore acustico Forte e Chiaro lo riceverete nella sua elegante e pratica confezione completo di tutti gli accessori. Tre insert auricolari per adattarlo alle vostre caratteristiche fisiche. Due batterie per il funzionamento di Forte e Chiaro. Chiamate adesso. Ricominciate a sentire bene perché con Forte e Chiaro l'amplificatore acustico è tutta un'altra vita. Quando non sentite bene le parole durante una conversazione con i vostri amici e piano piano vi sentite esclusi dai loro discorsi, è il momento di chiedere aiuto a chi questo aiuto ve lo dà sfruttando. La moderna tecnologia come Forte e Chiaro, il nuovo amplificatore acustico, uscirete da quella sensazione ovattata che vi circonda e che vi isola come una barriera invalicabile. Tornerete a sentire e a capire le parole. Tornerete a divertirvi con gli amici. Un aiuto semplice e a costi ridotti. Così piccolo, così efficace. Sentire bene migliorerà la qualità della vostra vita. Chiamate adesso. Non aspettate. Chiamate adesso. Oggi l'amplificatore acustico Forte e Chiaro lo riceverete nella sua elegante e pratica confezione completo di tutti gli accessori. Tre insert auricolari per adattarlo alle vostre caratteristiche fisiche. Due batterie per il funzionamento di Forte e Chiaro. Non sentire bene è spesso la fine delle vostre relazioni. Chiamate adesso. Ricominciate a sentire bene perché con Forte e Chiaro l'amplificatore acustico è tutta un'altra vita. Comodo, discreto. Forte e Chiaro sarà il vostro segreto. Sarà bello risentire con chiarezza le voci dei vostri cari. Il campanello di casa quando siete in giardino. Non perderete di vista i vostri bambini al parco. I suoni saranno nuovamente chiari e distinti. Chiamate adesso perché con Forte e Chiaro l'amplificatore acustico è tutta un'altra vita.